RISPONDA, RISPONDA, BANITO Clipper e Tigliani L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA Comunque vediamo subito la notizia di oggi Non so Tris, sto male Le news, la prima Molto divertente, abbiamo ricevuto uno strike Grazie Lufe, non su Twitch Tutti pensavano che era uno strike De Matteo Sabba Ma su YouTube Arriva questa mail Particolare Di un tale Simone qualcosa No no Strano, curioso Sto messo proprio male A male 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 E mi rendo conto che la live Bloccata Anzi con l'avviso Di strike Entro sette giorni In assenza di rimozione del contenuto stesso E' presente Su una live curiosa Ovvero il video di cicalone Alla gay street E dico no Sarà stato un errore Ma non è possibile Che cicalone Ci abbia mandato uno strike Mi sembra assurdo Controllo Controllo Manuale Possibile illusione Adesso io ho scritto Magari te sei sbagliato Non lo so Sbannate Iuri 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 Questa va montata Davidone Erfiotaro Calabroco Sono in attesa Sono in attesa Di risposte Da parte di Simone Ci ho parlato un attimo Mi ha risposto velocemente Però ancora non ho ascoltato dei vocali Io ho detto Simone se non vuoi che reagiamo A tuoi contenuti Diccelo prima Alla fine avevamo reagito Ad un video intero Nonostante la solida Ora di riflessioni Quindi contenuto trasformativo Secondo me Secondo me Vi posso dire una cosa Io non so che cosa Che cosa Ci stava in quel video Ma nel momento in cui Un video Ok Può Secondo me Poi magari questo Non è il caso Grazie 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 bello Secondo me ragazzi Se un video Reca un danno All'immagine Un danno lavorativo A una persona Per me Deve essere buttato giù Però secondo me Non regava Da danno alla persona Sto video Penso Penso Io In quel caso Uno Evita Come per altri E mo c'è ancora C'è ancora Io sto a vedere Sti giorni C'è ancora Il Il Litigio fra Matteo Di Cola E Franchiner Criminale Quello Quello Assurdo Ancora C'è sta Tre persone Non di parlarne Ovviamente Perché quello Insindacabile Però di vedere Contenuti altrui Diciamo che può Sussistere una sorta Di Può sussistere Una sorta Di proprietà Intellettuale Poi andrebbe Anche dimostrato In relazione Al diritto di critica Al fair use E cazzi vari Però Purtroppo Raga È vero Nel momento In cui Tu fai contenuti Parlando Di altre persone E Esprimendo La tua opinione Se a queste persone Non piace Raga Te lo possono Buttare giù Come niente È vero È vero E lo possono fare In qualsiasi momento È un rischio Che corri Nel momento Nel momento In cui Parli De notizie O determinate cose Che succedono Nel web Mo non ho capito Perché Cicalone Ha buttato Ha buttato giù Il video Al cerbero Forse hanno detto Qualcosa Di grave Non lo so Non so se voi L'avete visto Passavo di là Per caso Ma ha funzionato Perché non mi sono voltato Effettivamente ragazzi E Vabbè Ma io non butto giù Nessun video Nel antecolumbo Se un video Decontestualizzato Mi rega un danno Specialmente Se io lavoro Con i brand Non posso Capito Io chiedo Per favore Io non butto giù Nessun video Anzi Io do A tutti i freebooter L'autorizzazione Di Di usare La mia immagine E poi loro Ci fanno i sordi Quello che gli pare Grazie Grazie Giona Allora vedo Che vi piace Sta cosa D'andare Vi piace Sta cosa D'andare A coso Di andare Sto a vedere Fate i sub Mi piace Sta cosa Di andare A Tenerife Sono contento Almeno uscimo Un po' Dallo studio Dallo shark studio Ci facciamo Un bel viaggio E ce ne andiamo A Tenerife Che ne è figa Però vabbè Quelle sono altre cose Però la voce di paglio Letta era meglio Grazie Grazie Davido Grazie Grazie Bello Pi Pi Come adesso Si pronuncia Ragazzi No ma la villa Dove andrò Regà c'è la piscina Ci stanno un sacco De cose Infatti ci vado In pantaloncini Tutto estivo Sembra Dimmi un robot Che qualcuno Ora Acceso Prima era spento Sì Comunque Vabbè La considerazione Che ho È ma quando Te passa Questo mi verrebbe Cicalò Rimuovice lo strike Dai Veramente Cioè Parliamone Arriviamo ad un accordo E volemose bene Cioè veramente A mandarsi gli strike Nel 2023 No È una cosa È una cosa Proprio Demo de Vabbè Parliamone Cioè regà C'è stato pure Un freebooter Non mi ricordo Non mi ricordo Chi Che mi pare Aveva messo La mia La mia immagine Vicino Non mi ricordo Se è quella De Hitler O quella De Mussolini Cioè Per te è un gioco Per un brand Che vede Che vede Questa cosa Non è un gioco Perdo i lavori Capito Ti voglio dire Io ho detto Io lì è stato L'unico cosa Ho detto Sì Te lo dico io Te lo dico io Te Levalo Perché se no Naturalmente La mia agenzia Te manda lo strike Perché è una cosa Gravissima Per te è un gioco Per me no Che ci lavoro Qualcosa che ha dato Fastidio Non c'è nessunissimo Problema Vabbè certo Questo Per quanto riguarda I suoi contenuti In generale Non è che Se Cicalone mi dice No mi ha dato fastidio Perché Avete detto una cosa Che non mi piace Bah non ne parliamo più Evitiamo magari Di reagire a contenuti E Caso in cui Sussista Un diritto Di proprietà intellettuale Quello sì Ripeto Andrebbe anche dimostrato Un discorso Regato Al diritto De critica Essendo manuale Non mi andrebbe Di pensare Che lui comunque Sa che È un danno Che fa Al canale Cioè Si oscura L'intera live Eh però È il rischio Questo regà Parlate dei altri Ve buttano giù È il rischio Che sapete Che va a corso E Lo sapete benissimo Questo RISPONDA 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 BANIDO L'ANIMA L'IMORTACCI TU HUAH HA HA RISPONDA RISPONDA